Massimiliano Fedriga, ennesima strage in mare, la colpa è di Mare Nostrum? Ha una diretta responsabilità questo governo che invece di andare a impedire l'arrivo di migrati clandestini favorisce l'attività degli scafisti provocando anche le morti in mare. Chi alimenta i viaggi della morte e i viaggi della speranza è corresponsabile insieme ai delinquenti che lucrano e si arricchiscono con la tratta degli esseri umani. Noi con fermezza abbiamo detto che vogliamo la sicurezza dei nostri cittadini garanzie economiche e sociali prima ai nostri cittadini ma anche impedire gli sbarchi per evitare queste tragedie in mare.